Il suo nome è Holly Jane, è una bellissima donna di 39 anni di età, madre di famiglia, madre mormone, ha una doppia vita, infatti è membro di una chiesa famosa per regole piuttosto rigide, ma è anche una bellissima influencer che di recente ha voluto creare un po' di scalpore. Perché? Perché diciamo che è apparsa con un auspico, con un abito abbastanza particolare. Infatti al supermercato apparsa con un body calzaretico e rosso, i glutei praticamente quasi tutto scoperte, i body in semipelle, sembra plastica o comunque semipelle, e un bellissimo décolleté che sfoggia ampiamente parlando, come se uscesse fuori il seno. Non è passata inosservata, tutti o comunque quasi tutti gli uomini l'hanno acclamata, pensate che conta più di 120.000 follower su Instagram, ma qualcuno invece l'ha insultata. Già in passato sarebbe stata, diciamo così, sorrelevata, bosmeno bannata dalla comunità di fedeli chiamata mormone. Eppure questo fatto, questo piccolo video presente su Instagram ha creato un putiferio incredibile. Molti infatti della comunità chiedono che venga tolta completamente, non faccia più parte della comunità mormone e se ne vada via. Qualcun altro invece, l'uomo ovviamente gli ha scritto tanti commenti dicendo che è una bellissima donna, molto sexy e molto intrigante. Cosa succederà? Non si sa. Ai post, rilardo la sentenza. Iscrivetevi, commentate. Ciao, tenea, tornare a tutti. Ciao, tenea.